La polizia ha eseguito un decreto di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di un cinquantenne noto pregiudicato gelese ritenuto vicino al clan degli Emanuello. Con il provvedimento emesso dalla magistratura sono stati confiscati tutti i beni in sequestro compresa ogni accessione e pertinenza per un valore complessivo di circa 500 mila euro. nonché quelli riconducibili allo stesso e intestati alla moglie. Nello specifico sono stati confiscati un'impresa dedita all'allevamento di ovini e caprini comprensiva dell'intero complesso aziendale, 15 terreni e 4 fabbricati ubicati nel territorio del comune di Gela, 2 depositi a risparmio e 2 conti correnti. Il provvedimento ablativo in questione, non ancora definitivo, è scaturito dalle indagini patrimoniali svolte dagli agenti della sezione misure di prevenzione patrimoniale della divisione anticrimine della questura di Caltanissetta che hanno accertato come il valore dei beni nella piena disponibilità del cinquantenne intestati anche a congiuddi stretti risultava spropositato rispetto ai redditi dichiarati ed alle ulteriori entrate lecite, dovendo quindi concludere che esso era il frutto delle attività illecite e ne costituiva comunque il reimpiego.